Questo rivoluzionario metodo di produzione di depuratori d'acqua è il segreto che permette ad aziende che distribuiscono ed installano depuratori d'acqua di eliminare per sempre quell'imbarazzo che provano quando devono dire ai loro clienti di aspettare 60, 90 o anche più giorni per vedere installato a casa il depuratore d'acqua che hanno acquistato. In poche parole potrai essere l'Amazon dei depuratori d'acqua dalla velocità con cui riuscirai a consegnare ed installare l'impianto ai tuoi clienti. Grazie a tutti. Se distribuisci ed installi i depuratori d'acqua, ti è mai capitato che per colpa del fornitore che ti fornisce i depuratori d'acqua non sei riuscito a rispettare le date di consegna del prodotto che avevi già concordato con i tuoi clienti, facendo appunto aspettare a lungo i clienti prima di installargli il depuratore d'acqua che hanno acquistato. Se ti sei già trovato in situazioni del genere, sai bene di cosa parlo e della frustrazione che si prova quando ciò accade. Se invece non ti è mai capitato, non ti è mai successo, beh, ottimo, ma sappi che se vuoi prevenire questa spiacevole situazione stai guardando il video giusto. Ogni volta che parlo di questo argomento mi viene in mente una vicenda accaduta ad un nostro partner qualche anno fa. Ancora non ci conosceva e ancora non era un nostro partner, quindi non collaboravamo. Mi ha raccontato che una volta lo ha contattato un grosso cliente che voleva mettere negli uffici di un'azienda un gran numero di depuratori d'acqua. Il nostro partner, che all'epoca non era ancora un nostro partner, era ad un pelo per chiudere questo grande accordo per installare tali depuratori, quando ad un tratto ha detto al suo cliente che gli avrebbe installato i depuratori d'acqua dopo 60 giorni. Il nostro partner mi ha raccontato che dopo questa risposta ci fu un momento di silenzio di tomba. L'accordo stava per saltare e a causa proprio dei lunghi tempi di consegna. E fu proprio questo l'evento che ha forzato il nostro partner ad agire per trovare una soluzione, altrimenti avrebbe perso il grosso accordo che aveva in ballo. Dopo giorni di ricerca finalmente ha trovato un'azienda che realmente produce depuratori d'acqua e non che li assembla e ha capito che tale azienda poteva aiutarlo consegnandogli i prodotti in solo 15 giorni grazie al nuovo concetto di produzione che adotta. Ed è esattamente ciò che gli ha salvato l'affare con il suo cliente. Se ti sei trovato in situazioni come quella che ho appena descritto o situazioni simili, beh, la bella notizia è che non è assolutamente colpa tua. Vedi, il problema è che molte aziende che si definiscono produttori di depuratori d'acqua in realtà non lo sono, ma sono degli assemblatori, perché lavorano con questo metodo, con questo schema. Ora, immagina che questa sia l'azienda che in realtà non produce ma assembla i depuratori d'acqua. Questa azienda qui è l'azienda, diciamo, centrale. Questa azienda qui e questa tipologia di aziende lavorano con tantissime altre microaziende intorno a loro che gli forniscono i componenti per creare appunto quello che noi conosciamo come prodotto finito, il depuratore d'acqua. Queste microaziende forniscono i componenti a questa azienda qui, che in realtà non fa altro che assemblare i diversi componenti che riceve dalle altre aziende. Come vedi, le aziende che assemblano i depuratori d'acqua e non li producono hanno dei meccanismi molto complessi da controllare, ma soprattutto non riescono a controllare alcuni fattori perché dipendono proprio dalle aziende che gli forniscono i componenti. Ciò significa che se una di queste aziende che gli fornisce i componenti ha un problema di qualsiasi genere, ritarda tutto l'indotto. Il risultato è che il prodotto finito richiede tempi di consegna estremamente lunghi. Ecco perché abbiamo i famosi 60, 90 giorni di consegna o più. Ora che sei a conoscenza di questo scenario, secondo te è corretto che aziende che distribuiscono ed installano depuratori d'acqua ritardino le consegne ai loro clienti a causa di aziende che sono finte produttrici di depuratori d'acqua? In poche parole, se un'azienda assembla depuratori d'acqua anziché produrli, non ci si possono aspettare tempi di consegna rapidi. Ecco perché Paolo Tesi e il suo team, riconosciuti a livello mondiale per la progettazione e produzione di depuratori d'acqua, utilizzando la loro esperienza hanno preso le migliori strategie di produzione che utilizzano le aziende produttive più all'avanguardia del settore automobilistico. dove i tempi di consegna devono essere rapidi e le hanno adattate alla produzione di depuratori d'acqua. Fino ad ora tutti credevano fosse un'impresa impossibile, ma finalmente oggi è realtà. Sai bene che questo è il periodo dell'anno che apre la stagione. Molte aziende che distribuiscono ed installano depuratori d'acqua passeranno un'altra estate a rincorrere i propri fornitori per ricevere i prodotti velocemente, visto che la domanda aumenterà. Ed è ok, è comunque una strategia che, nonostante tutto, funziona. Altre aziende sceglieranno di fornirsi da reali produttori di depuratori d'acqua ricevendo i prodotti in 15 giorni e non rischiando di perdere o scontentare i propri clienti a causa dei tempi di attesa lunghi o comunque non rispettati. Per riuscire a trarre vantaggio dalle aziende che sono vere produttrici di depuratori la prima cosa che devi fare è saperle riconoscere. E per farlo ci sono alcune domande chiavi alle quali ti consiglio di trovare la risposta. Producono loro il carbonatore che c'è all'interno del depuratore? Producono loro i sistemi per raffreddare l'acqua, il sistema quindi di refrigerazione? Producono loro la scheda elettronica del depuratore? Producono loro i raccordi interni del depuratore? Se la risposta a tale domanda è no, è il segnale che l'azienda in questione assembla e non produce. So che ti stai chiedendo qual è il metodo produttivo che ti consentirà di ricevere i depuratori in solo 15 giorni dalla data dell'ordine. Te lo spiego con questo semplice disegno. Le aziende che sono reali produttrici di depuratori d'acqua quindi non assemblatori lavorano in questo modo. qui abbiamo l'azienda principale e l'azienda principale sotto lo stesso tetto controlla tutta la produzione e tutta la progettazione dei componenti più strategici, dei componenti più importanti che compongono un depuratore d'acqua. Quindi non prendono componenti standard da altre aziende terze, bensì producono e progettano tutto sotto lo stesso tetto. Quindi hanno un controllo sui componenti, sulle tempistiche di produzione che le aziende che invece assemblano non possono avere. Il risultato finale sono appunto i 15 o 20 giorni di consegna. Giunti alla fine se hai o lavori per un'azienda che distribuisce ed installa depuratori d'acqua e la tua strategia è avere grandi scorte di prodotti in magazzino per far fronte alla stagione, perfetto. Questo video non ti sarà stato in questo caso molto utile. Se invece mentre questo video giunge alla fine ti stai già immaginando cosa significa per la tua azienda ricevere i depuratori entro 15 giorni garantendo ai tuoi clienti puntualità e serietà, soprattutto in stagione, beh dai uno sguardo al nostro sito www.onwater.com per toglierti ogni curiosità a riguardo. Grazie.